Sita Coprizio, Prelà torna in festa con la Castagnata, è un appuntamento tradizionale a Molini e questo sarà domenica pomeriggio, giusto? Sì, domenica pomeriggio alle 14.30 ci sarà la solita Castagnata, l'ultima festa, l'ultima manifestazione che facciamo come amministrazione comunale, appunto come ti ho detto inizia alle 14.30 poi fino a tarda serata. Oltre alle Castagne ci saranno anche le frittelle di mele, un po' di trattenimento, vin brulee, un po' di mercatino con dei banchetti, quest'anno ci sono dei banchetti di artigianato, gente che magari produce maglie fatte a mano, sciarpe, cappelli, calze e quant'altro. Io mi auguro che sia una bella giornata e stando alle previsioni del tempo, stavano e domenica ha messo due bei giorni di sole, per cui mi auguro e sono convinto che tutti coloro i quali vengono a trovarci passeranno una bella domenica e si divertiranno. Sarà un modo per stare insieme, una manifestazione a livello di famiglie, proprio aperta a tutti, che va bene per tutti, diciamo. Sì, una manifestazione che va bene a tutte le famiglie perché il posto è tranquillo, i bambini possono giocare senza pericolo, il parcheggio non manca, ci sono tutte le condizioni ottimali per passare una buona domenica.